Questa scoperta straordinaria dimostra che Pompei è importante nel mondo, non soltanto per il grandissimo numero di visitatori e di turisti, ma perché è un luogo incredibile di ricerca, di studio, di formazione. Sono ancora più di 20 gli ettari da scavare. Un grande lavoro per gli archeologi di oggi e del futuro.